Un saluto ai lettori del quotidiano di Sicilia, è da poco entrato il 2021 e mi trovo qui a raccontarvi in breve le novità del catalogo Netflix di gennaio. Iniziamo subito lasciandoci appunto alle spalle l'anno appena trascorso con il mockumentary Death to 2020 di produzione Netflix, creato dagli stessi autori della serie Black Mirror e con un caso stellare, fra i quali troviamo Samuel E. Jackson e Hugh Grant. Death to 2020 prende in giro sia i documentari di attualità e sociopolitici prodotti molto spesso da Netflix, ma anche getta uno sguardo sull'anno assurdo appena trascorso, raccontandoci gli eventi con un piglio ovviamente comico parodistico. Non riesce in tutto perché come per la serie Black Mirror, anche Death to 2020 non sa se rivolgersi a un pubblico inglese o a un pubblico americano, ma è comunque un modo intelligente e divertente di lasciarci alle spalle l'anno appena trascorso. Andiamo avanti con alcuni film aggiunti nel catalogo Netflix di produzione italiana. Prima fra tutti vi suggerirei Il primo re di Matteo Rovere, nel cast Alessandro Borghi, ma per il pubblico siciliano e non solo, vi è anche il nostro attore palermitano Vincenzo Pirrotta. Il primo re di Matteo Rovere è un film coraggioso, perché il regista appunto Rovere si getta in questa impresa non facile a livello produttivo, cerca di rielaborare il mito di Romolo e Remo e della fondazione di Roma, però con uno sguardo verso serie quali per esempio Vikings o il film di Refn, Valhalla Rising, sia come messi scena che come regia. Quindi io vi consiglio di recuperarlo, anche perché credo che è stato un film non giustamente valorizzato dal pubblico nazionale, e che Netflix, mettendolo nel catalogo, ci permette di rivederlo, di dargli il giusto credito. Il secondo consiglio del ben più navigato regista Marco Bellocchio, il film Il Traditore, aggiunto anche questo questo mese da Netflix, con nel cast uno straordinario per Francesco Pavino nei panni di Tommaso Buscetta. Un film che, grazie alla sapiente regia di Bellocchio, che alterna appunto una regia espressionista e di maniera che ci fa immergere nel personaggio di Buscetta, aiutati anche dall'interpretazione fantastica di Favino, alterna però anche momenti di taglio televisivo, in cui appunto Bellocchio cerca di riproporre le immagini televisive che andavano in onda a quel tempo e che riprendevano i processi che erano stati aperti grazie alla collaborazione di Buscetta con La Giustizia. Film che ha ricevuto diversi premi, fra cui Nassi d'Argento e Davide di Donatello, e che è stato un passo a entrare nella shortlist dell'edizione degli Oscar di quell'anno, e che suggerisco di recuperare se si è persi. Chiudo questa rubrica con un film che non è di uscita recente, ma che è stato aggiunto appunto nel catalogo di questo mese, ovvero l'esercito delle 12 scimmie del grandissimo e troppo sottovalutato regista Terry Gilliam, il cui cast troviamo Bruce Willis e Brad Pitt. Il personaggio appunto di Bruce Willis, un detenuto nel futuro, viene mandato indietro nel tempo per cercare i responsabili del rilascio di un virus letale che ha portato all'estinzione dell'umanità e Bruce Willis è convinto appunto che i responsabili siano un gruppo ecologista terrorista guidato da un inedito Brad Pitt. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e spero che alcuni di questi miei consigli vi aiutino nella navigazione del catalogo Netflix di questo mese. Grazie ancora. Grazie a tutti.